oggi vediamo questo pirografo si tratta di un pirografo di alta qualità made in germany con la centralina per la regolazione della temperatura da 400 a 750 gradi queste invece sono le punte di vario tipo si possono utilizzare punte tonde punte ad ago punte con delle forme tipo questa stellina questa è una punta piatta calligrafica o addirittura crearsi autonomamente le punte con un filo nickel cromo qua sto utilizzando utilizzato una punta piatta mi serve sia per fare le sfumature che per fare il tratto largo dipende dalla temperatura che imposto vediamo in un angolino ecco in questo caso per un legno così dolce come il compensato su questo facendo delle prove la temperatura è anche troppo elevata perché fa fumo qui vediamo la regolazione va anche al di sotto dei 400 gradi quindi è molto precisa la regolazione nella temperatura ecco qui vediamo come la punta piatta si può usare anche per fare un tratto largo oppure usata di taglio per fare il tratto sottile questo è un ottimo pirografo di qualità garantito non dà problemi ha un'impugnatura ergonomica e protetta dal sughero quindi non c'è nessun rischio di scottarsi e in dotazione ci sono quattro punte come le vedete in queste immagini qui vediamo che stiamo facendo delle prove proprio per vedere a seconda della temperatura che ho impostato il tipo di tratto su un legno dolce come il compensato già qui la temperatura è stata abbassata rispetto a prima la abbassiamo ulteriormente e vediamo che il tratto diventa molto più leggero questo mi serve per fare le sfumature e per dare un colore chiaro all'incisione col pirografo questa punta è stata leggermente piegata con una pinza proprio per essere il più comoda possibile naturalmente la piegatura della punta deve avvenire a caldo e molto lentamente in modo che il filo non si spezzi qui abbiamo ulteriormente abbassato la temperatura e vediamo che è ancora più tenue il colore ecco qui vediamo questo il metodo anche per fare le sfumature partendo dalla parte più scura andando verso quella chiara qui vediamo che è ancora più chiaro proprio appena appena accennato il colore vi ringrazio per l'attenzione spero l'abbiate trovato interessante ci rivediamo per il prossimo video se vi interessano i pirografi li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale youtube elettronica didattica grazie a tutti alla prossima ciao ciao